Una buona sei a tutti i viatri, telefoni avverti fin da subito 860-640-771 per aspettare le vostre voci. Tanti argomenti, tanti collegamenti come sempre in diretta, come tutti i venerdì sei e come tutti i venerdì sei, non può mancare per vi ringraziare anche le domande di professore Bampi. Come sta professore? Bene, bene. In forma? Zaccato troppo, dice? Sì, un po' di cadughe, ma... Però va bene, soffiamo venire bene, dai. Soffiamo venire bene, partimo a spedìa, come sempre, sperando che se già i tanti ha un numero verde, con tre parole del professore, che sono queste che vi facciamo vedere, aria di primavera, d'estè, via. Eh sì, ho cercato qualche frutto dell'estè, non sono difficili però, intanto sentimo un po'. Fragola, come si dice? Fragola. Inzeneis. E poi anche lì che hai un po' di varianti a seconda d'arrivia? Sì, sì, però che varianti sono meno di quella dopo che è l'albicocca, che anche altri nomi proprio diversi da quello che sei dovevi a cena. Va bene, va benissimo, ogni giorno dice us e valutiamo. E poi dopo Fragola, l'albicocca, che questa chi è? La pesca. E quindi vediamo un po'. C'ha la dito alla verte, un po' come Giacobbe con Genova. No, no, pesca si dice pesca, perché la pesca è quella che diventa già i pesci. Eh, non ti c'è la feo, professore, non ti c'è la feo. Andiamo a spedire con la carregatura, la carregatura a firmare, come sempre, come tutti i veneri sei, da Davide Sacco, da indovinare. Alla questa, ho perduto, confessione dai nostri Montatuì. Diamo un po' agitavico che è, mi pare, ben difficile, sapendo chi è un personaggio. Diamo che è un Gadafante, in un certo senso, con il dramma sportivo da retrocessione di Sena. Ecco, diciamo quello in Genuano. E già partendo con sci e abbiamo agito. O le è un nome della cultura e poi in tassi anni cerchiamo di dire ciò. Difficile, professore, qualche idea? No, assolutamente. Non so che il gioco di ballone, non so niente. No, ma non entra con il ballone, non entra con il ballone. Ho detto quello in Genuano, ma non entra con il ballone. Ah, perché se ti ti mi dici, dimmi il nome del gioco di ballone, non sono buona dietro, non sono niente. No, no, non mi occuparie, li go a Usena, ma insomma, va bene. Non vi dico niente. Telefoni avverti, e tu sento, 640-771. La presentazione del primo ospite, sai in tanti e sai in tanti stasera, tanti collegamenti. In questo caso l'ospite è arrivato da Savignone, da Valle Screvia. Ho fatto tanto in tua vita, ho fatto libri, Giancarlo del nome. Un cognome difficile, Ferbri. Con la riva da Dunde questo cognome chi è? Ma a me probabilmente ho fatto un po' di ricerche, doveva venire da Campoligure. Ah, vale spiegare. Campoligure che sono i Ferrari, e probabilmente in tua 2000 avanti Cristo qualche scrivacchino, se sbagliò, ho fatto Ferbri e non Ferrari. Ho capito. Probabilmente, perché siamo gli unici. Anche qui ho in tua vita, ad usciù Giancarlo, ma ho anche due libri da presentare. L'applausometro di Dio, che non è proprio semplice come titolo. No. E poi manca sempre un centesimo a far mille. Qual è una serie dei racconti, mi pare di capire? L'è un po' un fil rouge da mia vita. E quindi, magari fosse salire te, perché i 70 anni sono passati abbondantemente, ma penso che tutti quanti che sono in questa posizione, che vengono sempre magari da notte, quando si dorme meno, pensate a quello che io ho fatto, o a dito. E allora magari mi è venuto che metterlo per scritto, da un momento che ho fatto praticamente cinque professioni diverse. Che seguiva? Quali? E beh, ho fatto un concorso in ferrovia, in 2009 ho cominciato, come conduttore, conduttore sono quelli che controlla i bigetti, e cianinciani poi ho fatto carriera fino a diventare ispettore, quindi sono stato praticamente 30 anni in ferrovia. Poi, cangiamento di vita, Fornelli e Cugina? Fornelli e Cugina abbiamo avvertito un ristorante a Fugge, e da un momento che ho fatto questa valutazione, a Fugge che sono 101 ristoranti, perlomeno che ne ha 101 a loro, o magari non so se ne ha 10 o meno, e quindi ho detto, bisogna trovare una cosa che sia già attrativa. Quindi abbiamo sempre fatto, abbiamo trasformato il locale in una alternativa di un galeone pirata, abbiamo tutti in costume piratesco, e facciamo due menù diversi, un tradizionale ligure, o quello che capitava, e l'altro con dei piatti originali pirateschi. Però, ho trovato in vege un libro, e quindi ho modificato alcune ricette, e quindi, una curiosità che voglio dire al professore, ho visto prima che è in Shabeku, che ho presentato prossimamente, e questi Shabeku hanno un devieto dai pirati, perché partivano con i stivali e poi tornavano scasi, perché il Shabeku partiva con tante balle di canù, e poco mangiare, l'egua che serviva a quello sensato, tante balle di canù e poco mangiare. Quando poi finivano le scorte, allora si mangiava gli avanzi, quando finiva gli avanzi, allora settaggiava i stivali, a strisce, si metteva a mollo in ma, questa è vera, è la storia vera, si metteva a mollo in ma, si batteva e si frisgeva, si mangiava le scarpe frite. Chi non savesse cosa è un Shabeku, deve vedere questa puntata di Liguria anche, perché in questa seconda parte parliamo di questo Shabeku, ma in tuo frattempo, se intanto facciamo a domande del professor Bampi, chi l'è in linea, per esempio? Buonasera. Buonasera. Sei il mio? Eh sì. Sei il mio Shabeku. Prego. Allora, buonasera. Buonasera. Sono l'Italia di Ciartusa. Prima di tutto mi voglio complimentare tantissimo per la trasmissione del mercoledì da Erto. All'esperta, stupenda, stupenda, stupenda. Grazie signora. Prego. Allora, Merelo, Fragola, sì. Merelo, Fricocco, e Persega. Come lo è il terzo? Persega. Va bene. Carregatio, ascialla, indovinà? No, assolutamente. Va bene. Grazie. Grazie. Furnari. Stefano Molinari, lo è in riferimento do comitato da viabilità da Valescrivia, lì da tanto tempo, se ne siamo occupati in questa trasmissione, ma anche a viaggio in Liguria, il problema da statale interrotta tra Viusalla e Runcu, non solo aggrava in questi giorni anche dall'obbligo di 30 lua a Runcu, ciò che è a Castagnola per questo giro della penicola, arriva a Udui, Dervi, gli asfalti non sono adeguati come Dori e Ivanese, che evidentemente è un rimpallo delle responsabilità, rimpallo come si dice? Ha un scancio, Dervi. Dele responsabilità tra... Non va manco bene quello. Città metropolitana, Kociv, a fin da fuori, quelli di Runcu non riescono a andare a Biusalla, quelli di Biusalla non riescono a andare a Runcu, e scipi a Castagnola bisogna andare a 30 lua. E gli altri dicono che siamo prigionieri degli altri stessi, Udege, Dezugno, all'enadata fatidica a Runcu scrivia, perché Gediang, perché morte è un mui, se ha searve o non searve questa statale, e in tuo frattempo, a faccia di Stefano Molinari, alle questa chi è. Buonasera. Buonasera. E a Lua? Tanto come in Sebo, che a settimana lei cominciava proprio in modo migliore, tanto che con Zerola non è in serie B, e quindi sape niente, lei ha proprio l'ideale. e poi ti hai detto bene, ti parlo di fuori, proprio una fuori, perché abbiamo cominciato qua a Franca, da un anno e mese, o a Senà, quella nuova, e quindi sarà la strada a Senà. Poi è stato a Peste Suin, e anche lì problemi con i boschi, e tutto ne si può andare in i boschi, dalle nostre parti, che capi bene quale disagio. Parla di st'inverno, o a G.A. Poi, o a parte che, se siamo resi conto, anche che in C.A. l'autostrada, ci dettanto ne sapevano andare, anche perché l'unico collegamento tra Ronca e Biusalla, è che è sempre qua, tanta gente che arriva in ritardo all'uomo, tanta gente che arriva in ritardo, a scuola e così via. e ora si è messo anche questa cosa qui, questa novità di questa settimana. Ecco, che è un altro cartello che facciamo vedere ai nostri amici da casa, abbiamo un po' di pigiare, un bello cartello da 30 a lua, quello è spunto da 6 a mattino, da mattino a 6, per fare gli asfalti, che vuole, di anni e di mese, per fare i cartelli, così basta in minuto, no? Sì, tra l'altro, se stiamo a 30 a lua, ma che è anche il divieto per biciclette, motociclette. Super Castagnò? Super Castagnò, tra l'altro, Super Castagnò, la strada alternativa, se è una strada alternativa lunga, quello che ti vuoi, per passare da Ronca a Biusalla e viceversa. Ti passi da su, da banchetta, dove c'è la banchina, la big bench, e ti vengi su da lì. In questo periodo qui, tanta gente va a scuola, con la motocicletta, o con la bicicletta, perché tanta gente va a bicicletta, e poi manco a andare, wow, in questa motocicletta, ti capisci? O, desde i giorni, vedevano contare qualcosa, in tu bene, o in tu male, se non è ancora abbastanza, giusto? Allora, martedì abbiamo una riunione, questa settimana, solo una riunione, tra la regione, Anas, con la ronca, e l'unione di comuni. Mi pare di capire, che martedì, ne abbiamo delle belle notizie, ogni altro. fino a ora siamo restati, che dovevano arrivare, un desiderio, ma, da le voce che circola, probabilmente, che sia, un ulteriore, proroga, di me, e niente, ne puoi accettare, ne gaffiamo, assolutamente. Lo gaffè, socialmente, economicamente, pendolarmente, per uscire di... Tutto, tutto, ti capisci che l'altro giorno, tanti giorni, gente che perde, nua dell'oro, perché lì entra nua dopo, operai, e così via, gente che, e figgio che vanno a scuola, arrivo nua dopo, cioè, cose di Anas, perché deve essere, c'è o che a gestì, a statale, o a 35 di sui, alle Anas, cose di, a un mondo da politica, in generale, che, comunque, lo ha a vostro fianco, se già è comune, se già a Regione, dei colori diversi, non è questo problema, ma Anas, che gestisce questa roba, tralasciando, per un attimo, quello che succede, Schupea Castagneva, che è lì, a responsabilità, alle metropolitane, provinciale, con in parte, anche Coci, che sta facendo i travaggi, per il terzo valico, ma c'è a statale, che è l'elemento principale, Viatri, cosa ve sentite di, stasseia? Ma, neanche, sentimmo di dire, che, desde, a la data che ne han dito, qualche settimana, fa, mese, fa, circa, quante le ha, e ne ha dito, se io, a stata avverta, ha senso unico alternato, vuol dire, da, desde, a, in giro, gli altri, dovremmo circolare, liberamente, tra, Bussale, Ronco, e Uborgo, se cambia qualcosa, se cambia, e c'è la tua, cambia tutto, per gli altri, cambia tutto, perché gli altri, in questa cucina, possiamo affrontare, economicamente, socialmente, ti pensi anche, che sei, ad i sagri, turisti, villi, e tutto, come facciamo affrontare, una cosa così, gli altri, siamo famosi, ora, ci da Ferragni, grazie all'infotraffico, quando si senta, a mattina, quando vaga l'uva, sento, l'infotraffico, a radio, sempre, tra Bussale, Ronco, 4 km di coda, 2, 3, 5 km di coda, è sempre così, gli altri, non possiamo sostenere, una situazione del genere, l'economia, va a bagno, gli altri, ha gente, è esausta, la gente, che si mesce, ha un problema, di pedolari, perché c'è anche un problema, di ferrovia, che hanno levo tante corse, tante corse, la mattina, l'arrivo in stazione, nel gare del treno, gente che va all'uva, gente che va a scuola, cioè, se rendiamo conto, pensiamo di affrontare, n'està in questo modo, gli altri, ne siamo disponibili, a un altro rinvio, desde il designo, alla data, desde il designo, serve, se non serve, cambia tutto, cambia tutto, e parliamo, parliamo anche con, le amministrazioni locali, amministrazioni locali, che sono da nostra parte, ne ha detto anche per gli altri, ne è accettabile, mi è, un martedì, così, se risentimo, in settimana, non è la prima volta, che vediamo spazio, consideriamo una, questione di civiltà, e vediamo come, alla linea, finì, l'ecceo, che in tue parole, che è molto, in quello anche, del nudito, e delle proteste, delle assunte proteste, che evidentemente, che hai in mente, se dovesse finire, il peso dei cuscini, grazie a Stefano Molinari, Giancarlo, credo che, insomma, queste situazioni, le conosce ben, a Valestrivia, alle casasse, e poi si fa fita, a parlare dei paesi, e introterra, e tutte le musse varie, no? Ma, l'introterra, lo sta riscrivendo, già da parecchio tempo, una vocazione, turistica, importante, e queste cose, veramente, taggiano le gambe a tutto, eh, professore Bampi, queste sono, per esempio, i punti, dei ronco, di Livia, non è la prima volta, che sentimo questa filastrocca, poi sentimo a voi, c'è proprio su, ma che è un'altra telefonata, in linea, tanto che vediamo immagini, dei ronco, buonasera, buonasera, chi è in linea? Sono Rocco, da Arbussola, ciao, prego, vorrevo intervenire, le parole, con il professore, sì, Fragola, Fragola, mi arrego, Albicocca, Albicocca, è una premessa, e mi sono d'Arbussola, Albicocca, che dimenticare, armonie, la retega, è di Sambricoccoli, e quindi, altri nomi, niente, quindi, pesca, pesca, è persica, persica, va bene, e invece, a Caragatua? Eh, non lo so, quella è il nostro. Va bene, grazie, un saluto, un abbraccio ad Arbussola, questo l'ho per tu, proprio su Bampi, Deje Segundi, c'è un collegamento, con Stefano Molinari. Intanto, rimparlo se dicere picco, il casaccia registra, pagina 646, sta parola, poi, eh, e niente, c'è quello lì, lì, quello che non ho capito, di chi è, di chi ha le responsabilità dell'intervento? Anas. Anas, quindi deve intervenire l'Anas, non ho capito, eh, cosa dici, non ti puoi, e se blocco, che ti fa 4 km di qua, e ti dici che metti in 9 mesi, per fare una strada, che ti ha fatto in quarto, due normalmente, 10 minuti. seguo io, che stiamo anche la settimana prossima, c'è questa roba qui, telefoni averti, ha un numero verde, che vedi lì, e tu sento, 640 771, serie pigia, con Alessandro, professore Bampi, dopo la reclama, con altre sorprese, altre collegamenti, e usciò il Giancarlo, che ne deve, contare anche, l'applausometro di Dio, quante bisogna cioccare, man, per arrivare ben, ben inerto. Garivemo, dopo la reclama, via! Se continua a discutere, in questa seianna, del Liguria anche, con il professor Bampi, con il suo Giancarlo Ferbri, con la riva da Savignone, o Diva, rispetto ai considerazioni, dei Molinari, poi va dito, e va asunto, che l'autostrada, è la corsia unica, tra Bussale e Runco. Esattamente, la corsia unica, e quindi, con i tir che partono, a mattina dal Porto, l'indramma, dove è passata, da Bussale a Runco, su Giancarlo Chi, stasera, per presentare due libri, vi menzioniamo, da chi è un secondo, ma in tale reclama, si discuteva, con dei piatti pirateschi, che aveva, su quarta vita, insomma, dopo un ferroviere, o la fetta, che aveva a Fugge, e aveva, sentivo in ristorante, all'epoca a Fugge, sentivo la necessità, di dovevi differenziare, e, per esempio, discutevi, di un piatto, la zuppa della filibusta, come l'è? L'è un piatto, di un 1500, originario di Antille, e l'è una super feta, con pevin, tomate, patate, e, non mi ricordo, ho pazienza, qualcos'altro, e soprattutto, un rum, a base del rum. Sortivano i risciucchi? Eh. Comunque, l'è veramente gradevole, e, a seguito, e la piaceva. Ghenato delle Funate, in linea da parte vostra, buonasera, chi l'ha in linea? Buonasera, facciamo da sana? Prego. Facciamo da sana per domande, tu per il suo. Sì, fragola. Mi regole. Pesca, o albicocca? Albicocca, armonino. E pesca? Persega. E invece, a carica tua? Ma, a me, dove senti, io mi pareva, Gino Bramieri, ma non sono, proprio sentivo, va bene, vediamo, se le cuscio, pure noi, da chi ha un po', in tuo frattempo, professor Bampi, si avviciniamo, a nessuno, prima, di aver domandato, su Giancarlo, dove si trova, intanto, questi due libri, l'opausometro di Dio, e manca sempre, un centesimo a far mille? Ma, prima di tutto, web, penso che sia quello che, le cifassi, la momentata, le tre vali, però, poi, l'editore, Europa Edizioni, mi ha detto anche, che si trova, anche a Feltrinelli, a Mondadori, dunque, in te, principali, principali libri, l'oplausometro di Dio, se diva, perché? Perché, pensava di parametrare, quello che è, le parole, in uso, aggiornato anche io, spread, applausometro, eccetera, tutto quanto, che sono proprio lo spettacolo, con quello che può essere, una scena divina, siamo in campo, abbastanza, surreale, dove, in pante, hanno tutte le divinità, che l'uomo l'ha sempre, è stato devoto per l'uno, quindi, il nostro segno, Confucio, Balaula, tutte le divinità, sono insieme, travaggiano, se fa pedì, in una stanza, dove, controlla, attraverso, in touchscreen, anche, chi si monta una modernità, dove, che spazio, da una parte, e, tempo, dall'altra, controllano tutti i momenti, che vengono fuori, di fede, e sono tutti episodi, che sono legati a questa situazione, e che determinano, poi, inesorabilmente, il calo, della tensione dell'uomo, verso, verso la divinità, e quindi, allora, da chi, se domanda, fanno un conclave, per decidere, cosa fare, di questo uomo, perché così, e nemmo male, e allora, decidono, puntini, puntini, poi vedi, va bene, anello a cercare, questo libro, curioso, è diverso, da tanti altri, in tuo frattempo, che è un secondo, collegamento, e allora, andiamo turno, in Valle Scrivia, questa cosa, questa volta, per cose belle, non per i problemi, delle strade, e delle autostrade, perché lì, troviamo, Antonella, ripeto, riferimento, da prologo, del Monteggio, perché in questo, fin settimana, a Monteggio, che è una bella cosa, a Monteggio, se arriva da Cretto, se arriva, da Casella, se arriva in tanti modi, dunque, viabilità, è anche un po' più facile, se che poi arriva, anche da Turigia, e cosa succede, dai parti, del cucinoso, Antonella, ciao, buonasera, ciao, buonasera, cosa succede? Fiamo, a Fea di San Pasquale, la prima festa dell'anno, che dopo anni, non l'avevamo ci feta, per la pandemia, a Femmo di Menega, abbiamo tanti belli banchi, che vendano, qualsiasi cosa, e poi Femmo da mangiare, Femmo tutte le nostre specialità, Femmo la pasta, la pasta San Pasquale, qua la pasta, dal nostro pastificio, Valle Scrivia, con l'eccellenza del territorio, con guanciale, la tomata, Femmo le anciù, le frite, rigorosamente nostrane, Femmo... Nostrane, non sembra di Duscrivia? no, no, Duscrivia, non lo chiediamo alcun, quelle lì, ma del Mar Ligure, do Mar Ligure, poi Femmo, e frisce, i cuculi, sia sai che duci, insomma, gli altri, cominciamo le nostre feste. Ma bisogna prenotare per venire a mangiare? No, assolutamente no, la verità, se venire, deve fare molto piacere. Dunque, domenica, non domani sabato, domenica, domenica, mesogiorno. E bisogna cercare quale posto a Monteggio? L'area verde, che è un'area attrezzata, dove c'è tutto, il campo sportivo, campi da tennis, lì c'è tutto il spazio, che è una cucina nuova, a norma. Credo che sia anche un segnale di ripartenza, di speranza, Giancarlo, c'è lì a due chilometri che sia presente. Siamo senza altro, perché a me e a mia moglie ne piacciono queste cose, e poi partecipiamo anche a Masunzo, anche senza fare concorrenza a Monteggio, che fanno parte anche dell'iniziativa che sia a Savignone, o sia a Sese d'Augusto, dove presento l'altro mio progetto le erbe di casa mia, cioè tutte quelle erbe che poi abbiamo trovato nelle nostre campagne e vedo le proprietà che hanno, cliniche, mediche, alimentari e cose. Allora Antonella, domenica da che ua? da noi, a fea cominciano e poi l'ho mangiata a due mesi, un po', ecco, comunque la manifestazione di a fine sese. Bene, e sai anche lo che aggiungono a vedere il castello di Monteggio, il verde di Monteggio e tutto quanto è bello che è da quelle parti. Grazie Antonella, un saluto, un saluto anche al cucinoso Sergio Rusci, che è un'altra telefonata, buonasera, buonasera, chi l'è in linea con gli altri? Niente, allora professore Bampia, andiamo a spedire, come sempre a Liguria, anche il momento dalle le sue, e mi appunto, c'è cose? In c'è, in c'è, non mi dico di sueni, però volevo dire che il pastificio artigianale Alta Valle e Scrive all'anno passò la peggio premio da compagna, il premio Carbone Pighetti che l'hiamo detto che la tocchia a primo canale. Ogni anno ricordiamo la compagna da cinque premi, se non dico ma. Da cinque premi, sì, sì. E questo è proprio Carbone Pighetti, quello che aveva rappresentato in giù per il mondo, quindi a livello internazionale, a Liguria o in posto da Liguria telefoni sempre averti e tu sento 647 per rispondere alle domande c'ha fruita del professor Bampi o è a caricatura di Davide Sacco ma ha le sue del professor Bampi o se parla di sueni? Sueni, figgio bambino, figgio bambina. Mi levo tutti gli altri modi di dire che puoi essere fante, fuenta, mattetto, eccetera, ogni posto si dice così, però questi non si devono a Sena, a Sena per dire bambino si dice figgio per dire bambina si dice figgio. Figgio da letto da nascione è il bambino un fasce. Bambino si può dire anche bambin ma bisogna ricordarsi che il bambin è Gesù Bambino. Pupung è un fantoccio una figurina vestita da uomo al femminile Pupunga però Pupung si può intendere anche un bambino piccolo e è famoso il verso fanno una po' pung di pesa che a mamma è in età messa. Prof. Bampi interrompo perché questa lavagna vedeva sueni se scrivemmo con a u invece che oe sa ieri vanerure? Sì, no, allora teniamo presente che la grafia è una convenzione quindi dice che una cosa è sbagliata è complicata siccome mi scrivo cosa in grafia fissi a prevede che il suono u si scrive o perché questo è la tradizione ma è una cosa antica sa l'anonimo zenese a fin du mila e ducento scriveva così quindi andiamo avanti domando scusa dall'interruzione fanciullo bagarillo ragazzino dimmo anche gardetto o garsunetto una persona giovane inesperta se dice in pivello o in pivetto un monello battuso un po' peggio che monello perché un monello petulante ed arrogante se dice pete un giovinetto pese di tu bardasciamme bardascia o figiuame e chi ricorda un verso dei strasetti d'arba che dice dove sono tutti i strasetti che hai fatto bardasciamme che avevo fatto da ragazzo giovinetto bardasciata è una fanciullagine e poi qui abbiamo zuvenu e zueno qui la cosa è interessante perché zuvenu ha l'accento sulla prima u e zueno sposta l'accento sulla e questo perché siamo gli altri in particolare di zena centro che non vogliamo gli eati e ci piacciono i ditonghi come questo chi che si chiama ascendente quindi zuvenu che va benissimo se non ha zena zueno dove non rifiano gli ati quindi per esempio se siamo un toponente da Liguria diciamo zueno come diciamo paese che gli altri non possiamo dire perché diciamo paese paese è iato paese è di tongo poi diciamo anche zuvenotto suenotto che va bene e poi qualche proverbio udì di morti aspettano i figiure arrestano i baletti e i figiure aspettano verbo al singolare perché per esempio le abbiamo dito quando fai quella cosa non c'è sin tassi questo che siamo fatti così dei suveni nemmeno qualche due ma dei vegi non resta nessuno e va bene siamo fatti così a giornata anche fanno tutto fino ai petto quindi chi aleva di figiure aleva di nemici cioè quindi per dire come questi sueni e poi come sempre i proverbi si contraddicono ma è proprio una cosa tipica di proverbi figiure e gotti non sono mai troppi figiure e guai non mancano mai bellissima questa lezione di professore Bampi e l'applausometro di Dio di Giancarlo ve l'abbiamo menzionato ma è da menzionare che manca sempre un centesimo a far mille altro titolo curioso altro libro originale perché questo attacco una piccola premessa il professore vedi a che manca sempre centesimo a far mille invece di tu zanese qual è manca sempre in città per fare la palanca sì e quindi di fatti mi sono ispirato a questa situazione e ho ripigio in ponte tutto questo libro tutte le varie situazioni che mi sono presentate e che come denominatore comune abbiamo sempre qualcosa che mancò all'ultimo e che ho lasciato un po' da male perché dice ma porca miseria poi va bene invece ho fatto delle cose e quindi magari ho un progetto che ho fatto quando sono entro quando sono e ho spettato in ferrovia per fare un treno un po' particolare un ristorante stesso che alla fine di conti poi ho avuto tanto successo che poi è Moserò questo è un altro discorso insomma le sempre mancò incitto per fare un sergio completo ecco perché merita edizioni book sprint di un'altra telefonata in linea buonasera prego niente allora andiamo in reclamo nel frattempo ricopriremo questa lezione altri collegamenti altre curiosità altri ospiti stai lì che arriviamo telefoni avverti e tu sento 640 771 e tu sento 640 771 e con Giancarlo parlava anche fea onda intanto i telefoni sono sempre avverti ve lo ricordo per rispondere alle domande su Bampi e che anche una telefonata poi che arriviamo allora chi l'è in linea buonasera pronto buonasera prego io volevo fare una domanda a come si chiama Carlo allo scrittù Giancarlo Giancarlo allora caro Giancarlo finalmente vede uno scrittù che parla senese fantastico come si potrebbe dire proprio in senese la Liguria è un gran paradiso ma i francesi ce l'hanno messa di dietro e davanti noi siamo un paradiso però Nizza Can Montpellier ci hanno proprio si dice in dergo asfalto ma c'è qualche possibilità che noi ai francesi gliela piazziamo noi c'è c'è un grazie 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 ciò che ho Giancarlo faccio proprio su tesi originale a competizione con i francesi come con gli amici e le bambi austriaci ma penso che se sceglie che mi vengono la Repubblica di Sena vorrei avere la Repubblica di Sena non ti confini quelli storici che sono col novese che hanno le volande da Alessandria con la parte d'inizio eccetera avete a lei che praticamente con la società è quindi così molto puntuale perché una volta anche i confini finisce lì chi me che faccio e fine però è difficile i confini quindi è un'operazione perché vorrei un consenso internazionale l'unico sistema l'unico momento in cui in tu ti può cambiare qualcosa se si fa la guerra l'effetto parla di confini di questa guerra però devono essere riconosciuti a livello internazionale l'impaccio con i confini cerchiamo invece di fare queste cose a livello culturale perché la cultura non ha confini allora parliamo di che le nostre diciamo che abbiamo già messo in Monegastro che poi l'enzenese questo culturalmente andiamo avanti e questa la ciasa dei Ferrari Oua in diretta con le nostre immagini da Terrassa Colombo che arriva in diretta dalla sede del primo canale con la Fontana Celeste questa sella ma vivo prima con Giancarlo che in Tareklam ricordava tutti i vari episodi del città che mancò per famigli e l'anticipava questo progetto di un treno speciale che treno le ha Beauty Shuttle Hotel proprio Zenese Strait Beauty Shuttle Hotel avevo studiato in treno le mie competenze tecniche mi davano la possibilità di poi spaziar sia territorialmente che tecnicamente avevo trovato delle vege carosse di un tipo particolare che andavano bene per questa cosa in tempo arco a Veruna avevo pensato di quelle si dice revampizzare si dice revampizzare e trasformare quattro carosse di queste in carossa a letto con suite servizi in camera e tutto quanto una carossa beauty farm dove si ha possibilità di fare dei massaggi jacuzzi tutto quello che si vuole due carosse ristorante dove si mangiava a sella perché di giorno se stava fermi a e con cucina e tutto quanto e carosse ristorante poi aveva una versatilità che poi vanno essere adattea carossa saloon con televisore ad occhiali quindi qualcos'è e quindi questi treni fanno partire da Malpensa Malpensa non bus al sito per tutti i turisti che vanno venire dall'estero e fare l'GA una settimana con una crucia in treno non se ne fanno niente perché non se ne fanno niente perché che stanno un'interferenza in tutto il periodo mondiale con il Vaticano intanto per espliciti dove stanno un grosso prelato che dice va bene se fai una cosa del genere che voglio entrare anche me e poi si fermò tutto all'ultimo minuto l'ultimo cito e tu sento 640 771 impedì a vostra fragola albicocca pesca come si dice e poi anche a carregatura e visto che tanto che Filippo Rossi e Luciano Castagnoli in regia stasera vi fanno vede a frutto del professor Bampi o per Tuso confessionò da Alessio Calcinaia e firmò da Davide Sacco chi è questo personaggio vediva che è ben ben di libri chi è che i due libri sa mencione Dushu Giancarlo l'applausometro di Dio e manca sempre un centesimo a far mille e poi questo volume è grosso professor Bampi Dushu Gianfranco Barcella diario di un uomo che ama la vita memorie di un guarito dal covid Barcella ho l'enautore de sanga in professura Toretta buonasera Barcella che lontananza che che libro è questo se cerchiamo di capire ma in tuo frattempo andiamo ad aprici dei sabbiatri da casa buonasera prego chi l'è in linea sono Mario prego alua dini Mario ho visto solo quello di ho visto solo la domanda di me reali si poi che albicocca e pesca da dove ti ne ciami da Genova da Genova e a carica tu secondo te di chi l'è non ho manco vista se mi vede ho pertuso o riesce non sapere chi l'è questo personaggio chi è non posso dire perché cosa è chi è chi l'è vediamo da chi ha un po' o da fare con Usena o l'è in difuso genuano anche se non è il nome del sport o l'è nome del spirito diamo con scie o le farie via diamo scie vediamo se abbiamo ripetuto un collegamento con il professor Barcella ganniamo da chi un po' con Barcella con le ciamme le ciamme per telefono e cerchiamo di parlare brevemente di questo libro Giancarlo tostua de salutare se arrivi a un altro libro che parliamo come è quella cosa che hai detto prima un vegliero ah sì un sciabecco un sciabecco un sciabecco in tuo frattempo grazie di questa presenza cerchè cerchè questi due libri quando è un periodo più bello per venire al vostro paese a Savigno a destra sensato abbiamo proprio il nostro comune il sindaco Tamagno e il vice sindaco Cecchini che si andano per organizzare quest'anno con la ripartenza dopo un anno dopo i due anni che siamo bene con proprio un calendario di eventi che sono veramente belli infatti quella 6-6 agosto che sa i moniatri modestamente a presentare queste erbe che sa anche il dottor Casula il farmacista di Monteggio che presenta proprio dal punto di vista scientifico l'utilizzazione di queste erbe ma questo che sa in corollario solamente il tuo spettacolo vero e proprio che si teniamo in la vila da Marchesa lì del Savignone arpa celtica e musiche celtiche sempre cose originali su Giancarlo Barcella un collegamento non è perfetto e a lui avevamo in scaletta anche di restitare un po' de poesie lì è a un momento che stiamo vivendo ma concentriamo se in minuto invece sull'uscia questo libro che credo sia veramente meritevole Rossini editore diario di un uomo che ama la vita memoria di un guarito dalla covid che libro l'è è la storia di un medico che l'è vede che seppeggia la covid e lo guarisce e lo guarisce e lui ha sempre che entra la medicina entra la scienza a un certo punto della vita comincia a pregare o prega la Madonna della misericordia e lo guarisce lui non sa se è un miracolo però comincia anche a credere guarisce anche l'anima oltre che il corpo e cambia la vita anche se lo vedo e questo è un miracolo da fede Rossini editori è nascito evidentemente in questi due ultimi anni Barcella sul libro chi è? Sì è naturalmente vero simile perché lo pigiò anche me ma è stato in l'ospedale di San Martino venire e mi ho scritto l'anno scorso quando siamo in questa pandemia quando siamo in questa casa e ho pensato a queste cose che non si deve rendersi alla morte ma bisogna creare la vita oltre la morte perché se non abbiamo la speranza abbiamo perduto tutto e così mi è venuto in mente descrivere questa cosa ha detto molto bene il professor Banti prima la cultura non ha confine non ha confine è infinita ed è fonte di libertà di libertà totale e anche come diceva Mattarella anche prego da tutte le librerie da fine maggio dove vi è grazie 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 se risentiamo anche per fare sentire sue poesie perché sono altrettanto meritevoli ma intanto cerchè questo libro diario di un uomo che ama la vita memorie di un guarito dal covid esattamente non è me poesie e poesie della cultura ligure del novecento che sono importantissime da Sbarbaro Barile Montale che hanno detto tutto sul nostro tempo e ha insegnato a tutto il mondo e per questo vorrei farlo meritevole di questa grazie Barcella e Alua ricordatevi del libro del professor Barcella ma ricordatevi anche i libri che ho menzionato l'applausometro del segno posso dire di Giancarlo Ferbri e il professor se io vado a Savignone anche se avevi qualcosa che manca sempre un centesimo a far mille ma subito per fare quella sui palà eh sì bisogna però bisogna vedere allora basta se avevi quando veni che mi e i miei mogi vi ospitiamo perfetto perché una cucinosa fa molto importante grazie Giancarlo stai lì andiamo in reclam con un amico dell'Iguriancoe un nostro amico Denei e poi altri ospiti altre vugi altre sorprese in secondo Carlo Denei ora è pronto per farne compagnia arriviamo via Piazza Corvetto è una delle piazze più vaste e più eleganti di Genova intitolata Luigi Emanuele Corvetto politico genovese dell'età napoleonica è caratterizzata dall'imponente statua equestre dedicata a Vittorio Emanuele II di Savoia la statua fu oggetto di polemiche in considerazione della frase riferita ai genovesi definiti vile e infetta razza di canaglie scritta dal sovrano stesso in una lettera dell'8 aprile 1849 ovvero nei giorni della repressione armata dei moti di Genova oggi qualcuno sta persino pensando di sostituire la statua del sovrano con quella del nostro settimo maledetto sarà vero? Oh yeah ho dormito in un albergo cinese ho dormito in un albergo cinese male mi ha massaggiato tutta la notte oh yeah mi è un po' che roba come lì a canzone professor Bampi mi è un po' che roba no mi è un rpie mi è un rpie si per una pala l'anca a me a me che roba ucce a me come in zanese cia becco cia becco cia becco Romano Romiti associazione non solo morgo tra le tante cose che fanno lì vicini ai scienziati dell'Istituto Italiano delle Tecnologie che è anche a sezione del modellismo giusto? naturalmente in te l'ultimo fin settimana è esposto tantissimi modellini avva uscito da tanti anni e questo precisamente cosa sa ieva? quello di Ulen Shabeku è un tipico un tipica imbarcazione araba che poi se ne è appropriato tutto il Mediterraneo naturalmente partimo partimo dai greci dai francesi dai spagnoli italiani naturalmente e ogni uno ha fatto la propria la propria versione quello è uno Shabeku armato perché ti mi parli italiano pardon scusami scusami ma voglio dire quello è un Shabeku armato voglio dire che noi prerogativa prerogativa è un scafo molto basso opera viva chiamo opera viva e prerogativa sulle veie triangulari e che tre tipi quello armato quello commerciale e poi che ne ha un altro lo faceva anche a drittura quei remi quei remi e quante hai messo a fallo questo? è un anno un anno sì lì l'ho fatto e a sueno che navegava e allora aveva tutto il tempo allora domando al nostro regista Filippo lo scint è una seianca difficile se poi l'è possibile vede anche altre fotografie da vostra esposizione e immagini che sono proprio le ghe hanno un solo morico e all'ospite Romiti perché veramente ha delle foto eccezionali professor Bampi come va con il modellismo? a me mi piace anche a me mi piace ma non so metterla via anche a me ma c'è questo chio ormai non è non è un po' che meraviglia chi è bellissimo chi è da roba moderna cio' antica o si l'accuso rappresenta un motorino o le anzi un ciao un ciao sì 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 un bravo modellista anche quello quello di Mignanego è un bravo molto collaboratore con gli altri e poi che queste navi purtroppo i recenti cararmè insomma perché tante volte si accusa gli amanti del modellismo di essere di guerra fondati ma forse è anche un caso di ritorno anche un po' non c'è questa abelinata sicuramente ce l'ha detto proprio bene è proprio una abelinata perché gli altri non è che fanno il canone che spara indubbiamente tanto sono un piccino e sono modelli e poi naturalmente naturalmente non è l'intento come posso dire un ragionamento a voi di pensare a guerra bravo questo modellismo chi è? cosa fa? una volta l'anno due volte all'anno ma secondo secondo chi ne ci ama chi ne vuole gli altri ultimamente poi ho conto quella che è questa qui è la mea santa maria e invece di chi ne ci ama poi naturalmente andiamo però una volta l'anno già ho il problema di che abbiamo c'entra lì però fiamo anche il novo dalle prego e purtroppo è il mio problema che voleva che voleva studiare perché perché come partenza come partenza a mergo l'intento è quello di naturalmente aggregare i suoni e abbiamo fatto però noi abbiamo risposto se manete in tescoe insegna un po' possiamo partire e che mostriamo un po' segnalazioni e come si costruisce queste bellezze chi è in tuo frattempo abbiamo anche delle immagini di Badalucco credo con la nostra regia le cussi in tuo frattempo perché proprio su Bampi a Cignua all'inizio della trasmission si complimentava per la trasmission del mercoledì di Passo del viaggio in Liguria che l'ha fatto tappa in Friuli in Veneto e in Trentin Alto Adige a Liguria esporta in tuo nord-est e in tuo nord con il pesto Bajaykoi e tutto quanto ma mercoledì prossimo invece il viaggio in Liguria ritorna a tutti gli effetti in Liguria in la provincia dell'Imperia e siamo a Taggia in questo posto chi è? che posto l'è? chi l'induvinga degli altri due? cosa non voglio dire? prima del mercoledì eh eh non so prima del mercoledì però bisogna essi guestetti paese di Stoccafischio paese con l'inizio per B se passa dell'Ipean a Trio Badalucco bravi esattamente paese con l'ha detto l'onoreficenza al nostro amico proprio su Bampi perché le cittadini onorario di Badalucco Giovanni Poggio c'era mista di Arbissua e questo laurea argentina perché a Valeria l'argentina che ho fatto tanti danni due anni fa e siamo andati lì per contare le storie come sempre del territorio di Oio di accoglienza di turismo ma anche a proposito dei sueni di Utaio con fabbrica violino chitare come si diceva quello che dovevi anche un mic fc quello pc l'ucolele 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 ogni dingo deve parlare o se non che una parla bella una parla grama sono tutte vanno tutte bene ogni dingo parla o se il problema è che tutta questa ricchezza ciancianin ha scendato mercoledì 6 a 9 e 2 se posso dire poi a scuverta pegnatra l'esteta taggia con un centro storico straordinario bellissimo dove sono stati famosi per tanti anni i fulgari d'inverno con questi feghi che non ci fa per tanti motivi ma il centro storico del taggia o il secondo sulla collo di Sena per grandezza e per magnificenza ti ha detto fulgari mi ha detto fulgari fulgari e ci perché erano intervocati tra Sena a casa fulgari di Sena specie intuponente a Giancun quindi come Rellorio mi ha detto Rellorio Rellorio eccetera fulgari bello bellissimo a proposito dei suoni o che è il suono o che è il suono che arriva ciò o meno da terra ad usciù romano perché con l'arriva da Pulsevia Federico Romeo l'ha amministrò il territorio da Pulsevia negli ultimi cinque anni cerchiamo anche un po' d'entranto vivo insomma di argomenti vorreggiamo sapere tra Rie Bussaneo Puntedegimo come sta passando i suoni con il dialetto cao Federico Romeo ciao buonasera intanto ciao Gilberto e buonasera a tutti saluto il professor Banti e il grande romano Romiti che è da voi in studio che qui in Vallata è ben conosciuto per tutte le sue grandi attività tra l'altro Gilberto lui fa anche parte del coro Montebianco quindi di una tradizione importante anche della nostra musica la nostra canzone anche dialettale genovese però ho fatto tutto sto discorso chi è per non risponde in dialetto suro mio come andiamo con Usenese ecco con Usenese io lo capisco però non lo parlo e questo già il professor Banti mi darà dei balletti allora intanto su Shadrita che ti ne hai detto con Romano e su coro grazie perché ne parliamo da chi ha un po' perché ho un impegno importante ma secondo ti che ti è sueno che ti hai 30 anni che è in modo da sueno perché non si perde e ci do per due o via in tema di Usenese bisogna ripartire dalle scuole Gilberto le scuole sono il nostro veicolo più importante dove lì passano le nuove generazioni e devo anche dirti che in Vallata io quando le scuole le giro ci sono bambini anche ragazzini che un po' di genovese lo parlano ma perché magari hanno la fortuna a casa di avere i nonni che gliel'hanno insegnato però ecco se all'interno delle scuole ci fosse anche un momento dei momenti proprio di insomma dove il genovese viene insegnato ecco penso che questo sia una cosa molto importante soprattutto per difendere e tutelare le nostre tradizioni che poi è la storia del nostro territorio e questo penso che sia una cosa positiva ecco andiamo a vedere un po' immagini da Polsevia che abbassa Polsevia che fa riferimento al comune di Sena e delle gassi in derio di Bussaneo e di Punte Degimo e poi che cinque comuni in giro questo ad esempio credo che seggia il comune di Serraricò credo beh viate su vostro territorio Federico Romeo che i teatri importanti a Rio e l'Albatros a Bussaneo Govi a Punte Degimo il teatro San Luigi Gonzaga a Bussaneo o anche il teatro l'estetto riaverto che è tanto zenese il teatro dialettale sì c'è tanto genovese c'è tanto teatro dialettale questo è il teatro Govi ma anche un peniente se c'è ma teatro Rine Gilberto Govi Rine Gilberto Govi esattamente quello è il nostro fioralocchiello la nostra bellezza culturale della nostra vallata tra l'altro da poco l'abbiamo ristrutturato quindi davvero è un grande luogo di cultura dove le nostre scuole partecipano molto e quindi potrebbe anche potremmo anche pensare di mettere in piedi magari ne parliamo anche col professor Bampi una serie di momenti anche passando dal teatro dove potremo impegnare le nuove generazioni anche ad un percorso teatrale che possa avvicinarli proprio nell'utilizzo della lingua genovese dico lingua perché so che il professor Bampi ci tiene su questo a ritermare la differenza allora se fermiamo solo per un secondo i telefoni sono averti e tu sento 640 771 Federico la resta con Gnatri per qualche minuto in tuo frattempo frago l'albicocca pesca come si dice ma anche la caricatura che vi facciamo vedere da chi ha un secondo chi l'è o che deve fare in qualche modo con Usena dopo il reclamo a proposito di frutta parliamo di seggie perché c'è delle immagini spettacolari da farvi vedere arriviamo Allora Usha Beko ha preso la via dei mari la via dei mari vede anche dove l'è finito in queste inquadrature particolari lei lì mi esoporto tra Uromiti e Uromiti che sta proprio bene qualche problema visto i dimenshwin c'è inquadrature singole domandiamo scusa a casa che non vi vedano puliti il professor e Uromiti ecco è un'e talmente grosso con l'interno dell'inquadrature di un professor però è talmente bello che insomma in questo paesaggio portuale del centro storico sta bene professore Uromiti chiamo di da di tante cose intanto gli appuntamenti da compagna partiamo da quelli perché se siamo scordati venerdì passò e ne fa piacere invece ricordali e puntualizzali cosa succede in compagna martedì? martedì chiamo due cignue Marina Marchetti e Luisa De Gasperi disegni e merletti di una città di mare che poi si te ha le Santa Amra Gaita e Marina Marchetti è anche direttrice della biblioteca ha le cose interessantissime perché questi travagicchi questi merletti eccetera sono veramente una nostra tradizione che gli altri continuano a coltivare quindi sai è veramente una cosa bellissima proprio una interesse da nostra cultura di questo tipo mercoledì invece il giorno dopo a questa chiare in Sarzan martedì a 5 in Sarzan mercoledì in tassede da compagna a Ciazza da Posta a Beggia 30 erano 5 che se sera i mercoledì musicali curati dal maestro Ioses Cano e sarà Stefano Crispini voce chitarra che rappresenterà la canzone genovese di tradizione orale attenzione quindi non canzoni d'autore ma quelle cose che venneranno su un stedio sarà bellissimo e sarà veramente un bel diciamo modo per chiudere dando appuntamento alla prossima edizione seguo anche questi due appuntamenti con la nostra regia Luciano Castagnola Filippo Rosci andiamo a vedere questi erbi straordinari meravigliosi che fanno riferimento sempre a Polsevia su un erbi di sege ormai erbi di sege non si trovano da questo signore che si chiama Mario de Cremé in giù all'agriturismo che è lì da quelle parti erbi tanti meravigliosi ci dessento in questa collina dedato a Vusaneo tanto per capisse e poi questo schumario dell'agriturismo di Cremé non ne contava che c'è un grande problema di cui nessuno parla non c'è veci proprio subito e anche se che danno da beve a questi erbi tanti seccano qualche fotografia alla riviata che ha un po' che fa vede proprio e sege che sui in queste condizioni e udigeli non ha niancio avanti anche se che devono da beve ganderege tanto profonde che comunque leggo a Nugariva e siamo destinati da chi a qualche settimana a qualche mese o massimo a seccare perdendo una ricchezza perché sege buone sege dei nostri non si trovevano non si trovevano sui dunque complimenti a chi anno dopo anno creò questa meraviglia sege buone mangiare mazzo sege mazzo sege all'assasso signo sege appigno perché a mazzo ne venne poca signo doveva essere fondata di sege Federico Romeo conosce quelle zone lì e zone di creme Federico Romeo che domandiamo frago l'albicocca e pesca se parte da quello per imparare vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento secondo me si ha scuso dice beh a laurea ho la pigia quindi però il sciocco sciocco invece che ne menzionava proprio Romeo o lei invita ho coro dunque mi devo dire circa circa un mese fa mi ho fatto una vestigio e ho dovevo abbandonare perché perché andare prevedo a settimana partire da Campomona fino a Cercuzza ma non le ha fatti cosa anche per per me e per i figi perché mi hanno detto 83 va bene non volevo dirlo complimenti 83 e mi hanno detto non lascia perdere perché per strada purtroppo è problematico però mi ho coro che sono stato 40 anni che voglio bene e quando qualunque mi sono sempre sempre presente posso dire una cosa però non mi permette che vuole fare dunque Federico Romeo mi ha detto una bella grazie ma bella pennella ma vedo di mio affetto giusto faccio modellismo ho canto con il cuore Montegianco e ho partecipato naturalmente anche a il dialettale con la compagnia di Elio Parodi a Commedia Senese ma io sa che molto prima di me anche 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 il dottor Volpara ho fatto parte la compagnia e mandito anche bravo e mandito anche bravo fra parentesi periodo bellissimo da vita però i risultati lì che là che è una telefonata però in linea chi l'ha in linea con Gnatri buonasera dovemo recuperarla o collegamenti invece lemo recuperò Federico voi mi domandate chi è in studio albicocca pesca e fragola come si dice in Senese meno male meno male che la tecnologia è da ripartiamo pesca albicocca e fragola non saprei risponderti Gilberto cacci te albicocca albicocca non saprei risponderti va bene poi te lo dimo da chi ha dei cimenti te lo dice proprio su Bampi voi va dite questo non ho capito regia ah scusa Federico devo sentire a Mario a vedere le ciliegie eh di chi ha netto sì 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 li conosco li conosco bene eh no questa è comunque una meraviglia naturalistica per chi sta in Valpolsevia e normalmente si parla di una Valpolsevia industriale senza agricoltura levea non si può negare l'evidenza a Sararicò a Campomont regista e qualcosa eh sotto questo punto di vista ma quello che è a Cremen è veramente in paradiso da natura voi va dite questo Federico prima di salutare eh hai fatto questo patto a distanza con il professor Bampi se può veramente ripartire da lì da Escoe Viatrico accompagna hai fatto da tanti anni questo tentativo l'hiamo fatto da tanti anni poi ho letto perché il Covid qui è Macello quindi però l'hiamo fatto quello che è interessante che abbiamo scoperto di essere interessante è l'incontro delle generazioni a generazione di nonni con generazione di nevi questo è stato meraviglioso tutti se già i figi se già i nonni tutti contenti nulla è un modo con cui ti puoi spiegare ozenese per mostrare ozenese bisogna inventarsi qualche cosa magari rifarsi un po' a nuove tecnologie queste tradutture automatici eccetera lì le impone da studiare oppure misure e vaga fisse materia curricolare però a quel punto che ho problema chi sono i professori sono mio professore perché che titolo mi sono professore della mia disciplina di fisica matematica perché lì ho guaduto un concorso sono stato giudicato le donne ma tuzenese chi è il professor tuzenese ma nemmeno un linguista perché il professor tuzenese è quello che parla in buon tuzenese e chi o l'è come fa il sacernelo per esempio Federico in te valle lì in te pulsevia ti hai 30 anni ti è genè sueni o suene che parla un uzenese sì sì ne abbiamo ne abbiamo soprattutto sulle zone tipo Algarbo ne sono presenti ma anche verso Ponte Decimo soprattutto nella zona di Murta a Borgioli abbiamo una serie di giovani che il genovese lo parla non lo parlano bene perché alcuni sono anche amici mi raccontano come come dire come coi nonni proprio c'era stato un forte legame stretto durante ovviamente la loro crescita in questo caso chi si fa un gruppo di parlate dove si parla non un gruppo dove ti spiega grammatica non è importante quello lì o agrafia dove si parla allora se la gente che è buona parla 10 persone 12 persone non ci sono qualche due che è buona parla e che animi funzionano in questi gruppi chi ne ha delle emofetti e funziona come compagna alle emofetti ti segnalo che nel circolo culturale Valtorbella proprio nella zona della Valtorbella qua sopra Rivarolo c'è un gruppo di persone che fanno proprio quello che dicevi tu cioè proprio un momento di dialogo in genovese totalmente e noi vorremmo portarlo a teatro anche fare anche un percorso teatrale insomma il percorso teatrale va anche bene va anche bene perché rappresenta le storie di vita in generale la rappresentazione teatrale va anche bene lì dipende perché poi anche la resicitation la scenografia cioè la regia che tutto dei cose invece un gruppo dove si parla lì è più semplice però va bene anche il teatro stanno poi invenuto Cugnatri Federico fiamo in tempo a Ciappana telefonata prima di fermarsi per la reclam chi l'è in linea Cugnatri buonasera buonasera sono Margherita saluto il professore a tutti e voglio dire come lettere frutte non mi ricordo i merelli il panicego e l'altro albicocca e pesca e si che dice non mi viene a cocca ma non mi viene in genese perché in casa nostra non l'abbiamo mai parlato albicocca però è un bel nome ma non mi viene in mente va bene grazie signora grazie ho dimmo anche a Federico Romeo dopo la reclama andiamo in reclama a spedìa e poi dobbiamo anche contare qualcosa che non solo morgo questa bella associazione vicina ai scienziati dell'Istituto Italiano di Tecnologia e da e soluzione per tutti arriviamo arriviamo in Amuassi a 70 anni si avevano due a fan perché sabato 21 maggio ore 21 a da Renzano al teatro Il Sipario Strappato che è anche augusto di Bigetto e accompagnare la compagnia teatrale San Fruttuso San Fruttuso che è quella di Giorgio che è il mio avvio anche chi te la degnatteri parole e musica a curiosità di Mike FC meraviglioso sì 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 ma poi gli altri sono brillanti fanno queste commedie brillanti divertenti di seguire è una bella cosa è una bella cosa è lì che questa di Renzano ha una scuola per la tua che fa questo Sipario Strappato e quindi interessante se sei lì in zona essendo gay dei impegni amerita perché c'è tante curiosità e originalità particolari esattamente come a Murego andiamo a vedere anche quelle fotografie o a quando fai la prossima radunata dei modellisti intanto siamo in contatto con l'ipercopio che prima di Cove ogni anno facciamo la mostra e speriamo che ne ricciamo intorno e poi dimostrere qualcosa non solo Murego non fa solo modellismo ma fa tante altre attività si 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 fa ginnastica si fa a parte che ho studio medico naturalmente che è importantissimo e poi giusto si fa ginnastica si fa danza e poi quando capita a volte anche qualche qualche comedia abbiamo un bello in bello palco naturalmente dell'associazione lì a fianco però per se volentieri qualcosa facciamo o a domenica facciamo una bella mangiata dell'umasse che mi mi fanno qualcosa d'altro perché a me non mi piace però questa compagnia è vero che dopo non manca la vale però non ne mangio però non ne mangio mi rischiaio Romano grazie per questa simpatia non è finita a Liguria anche perché usano da pulsevia le montagno per far sentire le risposte del professor Bampi e allora a Carlo Federico ti dico che fragola per esempio si dice Merello Merello intanto l'hanno dite no? si l'hanno dite quasi tutti in qualche paese l'air cade quindi viene Merello quindi questo però ricordate che si scrive cuscì è Merello Merello perché questa fa c'ha le acce difficile invece quella che arriva albicoca bricoca lo si dice però si dice anche armonin e quel che dico dice anche mishimi quindi che ha un po' dei nomi a seconda dove ti venti parola che accangia un po' come carciofo ardi ciocca che accangia tutto tutto via accangia tutto tutto non usiamo arbicoca che è un italianismo assene zoma insomma e poi la pesca questa torna l'ha andita abbastanza a tanti persega c'ha l'accento grave perché si dice averta caricatura niente nessuna idea no no davide sacco una regalò questa caricatura che vedivo essere ligata un po' alla genovesità e un è intifuso du zena esattamente come sui soci le triste come tutti i genuani di questi tempi ma uno perde sui l'arità eccolo lì ti parlo che si difficile lì è difficile allora albicocca fragola e pesca il sei politico che si usava una volta l'avresti preso? eh no Gilberto mi sa che questa volta il sei politico non l'avrei preso allora ti ne hai dito che non ho capito perché il collegamento non le ha perfetto che ti hai già netto avete quelle sege quelle ciliegie sì ci sono già andato poi loro sono amici quindi li conosco molto bene va bene e c'è questo su e noto chi invece che vuoi dire per salio lo saluto tantissimo e ci vedremo presto su a non solo Morego e oggi ero anche con gli alpini che insomma vogliamo organizzare un bel evento a settembre quindi sicuramente Romano sarà coinvolto insieme all'associazione e poi magari se vuoi fare questo patto con Bampi Proeghe Peoben Dusenese e Desena grazie Federico grazie a voi buona serata Federico Romeo e Aluà saremo in musica vedivo una canzone particolare Noe Nae Noe le modette un po' di tempo fa è un grandissimo successo anche su web di Fabrizio Casalino con il nostro swing di Sergio Olivotti in tuo frattempo il nostro swing che vedei sono diventato anche in libro gettonatissimo dai famiglie dai fuenti sa godiamo su un quattro minuti di spensare a testa ma sono viattuto di Zenese elegante musicale è veramente una grandissima penna Romano grazie e complimenti per quello che fai a Morego continuare a uscire grazie a te Luciano Castagnola in regia Gnate se vedremo proprio su Bampi come sempre tra sette giorni signoria grazie a te Gnate se vedremo capito cosa la via Gnate se vedremo in segno sotto su via vantiedre Ulla ha detto che problemi nu che nè Cuscibe che mu mandò un viaggio in caccia vio anche le uga provo nu che riusci Ulla che chi ne ducanna a parlare con stanna e nè a c'è nè da nè 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 in chume nè tu c'è falare a jonah quark che dink a convincere c'è lè nè nè e e che se destino a navegar Chino chino sa come fa Chalamia che va a genpo a parlare con chà E'o bacanculo è partito O se mi sottito intio O se fetto piccinino chumano E' parlando qua nainà Aga dito dritto in pè Chiamo spise Cos'è lì che posso fa pe lì Amo nò che ne 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 C'è da quando ne creò Mai nici un abbrassò Cum un ferro d'un martell lumei picò Lei venia fin a contessa E per farmi una caressa Amo ha rotto una bottiglia Che in c'ha testa O alle me perdugna Ma sto punto me domando Mi dì già per un bregantino De contrabando Se ne c'è un abbrassia E per manu va a cucci Vuoi andare un po' tutti quanti A pigia un su E per manu va a cucci A pigia un abbrassio 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 E per manu va a cucci A pigia un abbrassio 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 Grazie a tutti.